Il ricatto è la debolezza di un governo che non sa che pesci prendere. Manco per cavolo, perché io ho il consenso informato che devo sottoscrivere e non glielo sottoscrivo. Perché se loro vogliono vaccinarmi, se mi ammazzano, mantengono i miei figli a vita. Il vaccino non è obbligatorio? Appunto, infatti io non lo faccio, però è obbligatorio per i medici ed è la cosa più vergognosa che esista al mondo. Perché un medico lavora e studia 15 anni e questi devono cambiare mestiere, la politica deve cambiare mestiere. Che sono tutti praticamente un governo tecnico attaccati alla poltrona, che ci hanno messo la colla a servione che andava di mezzo ai miei tempi.